5 stelle lega, ok? Però per interesse giornalistico, Giancarlo è formalmente molto corretto e rispettoso, chi è a questo tavolo ha ampia, amplissima documentazione messaggistica, whatsappistica dall'inizio del governo ad oggi, che se qualcuno volesse può essere bellamente messa a disposizione del popolo italiano, perché siccome noi non abbiamo niente da nascondere, ci sono i messaggi scambiati col Presidente Conte, ci sono le interlocuzioni col Ministero dell'Economia, io ricordo il mandato molto istituzionale che mi è stato fatto rivedere stamattina, che tramite whatsapp mandai ad alcuni dei trattatori a questo tavolo ed era non firmiamo un cazzo, questo agli atti parlamentari, quindi questa è la sostanza, perché questa è la sostanza, se qualcuno fosse incuriosito ad andare anche alle spalle della sostanza dall'autunno scorso al dicembre scorso, alla primavera scorsa, all'estate scorsa, è chiara la posizione della Lega e io ricordo che sia Tria che Conte ci rassicuravano dentro e fuori dal Consiglio dei Ministri, poi è segreto quello che si dice in Consiglio dei Ministri, quindi evidentemente io non vado a ledere quella che è la forma delle istituzioni, però dentro e fuori dal Consiglio dei Ministri ci assicuravano che non abbiamo preso nessun impegno, non abbiamo preso nessun impegno e noi uno si fida, tuo Presidente del Consiglio, tuo Ministro dell'Economia dice avete ragione ma le vostre preoccupazioni sono eccessive, non abbiamo preso nessun impegno, figurati se noi prendiamo un impegno contro quello che le due forze di maggioranza e il Parlamento ci dicono, se dovessimo scoprire che qualcuno invece l'impegno l'ha preso, e beh, e beh.